Una caduta accidentale, una manovra azzardata durante un bagno nel torrente Mallero o forse un gesto estremo. Nessuna ipotesi è per ora esclusa dalla procura del capoluogo riguardo il tragico ritrovamento di un corpo senza vita che apparterrebbe ad un ragazzo di 22 anni di origine rumena. L'allarme è stato lanciato all'alba di questa mattina alle 5.30 da un pescatore che si trovava in località Gombaro, a Sondrio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Sondrio, i vigili del fuoco con cinque uomini ed una unità fluviale oltre ai soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul caso vige il riservo più assoluto, bocche cucite sia da parte della polizia che dalla magistratura, che nei prossimi giorni disporrà l'autopsia sul corpo che è stato ricomposto presso la camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio. Titolare dell'indagine il sostituto procuratore Elvira Antonelli. Questa mattina è stata eseguita la ricognizione cadaverica, ma anche in questo caso non sono stati forniti ulteriori dettagli che possano chiarire la vicenda.